Lei continuerà a fare il tampone anche dal 6 dicembre? Come mai nonostante il super green pass? Perché fortunatamente io a me serve solo per lavorare, non devo andare in ristorante, tizzeria, cinema, viazzi, altri... Lei di Cagliari? Non si fida ancora del vaccino, possiamo dire. Il vaccino non fa neanche molto, sta morendo tantissima gente. I numeri reali degli eventi avversi sono infinitamente superiori a quelli comunicati, perché la gente, come sta male, non sa neanche che deve comunicare all'AIFA gli effetti avversi. Se lei parla con la gente, anche mia moglie l'altro giorno è andata alla posta facendo la fila, quando è andata con questa signora, la cui figlia stava morendo, l'ha un saluto al tuo uomo e dopo l'ha fatta la seconda, non l'hanno comunicata all'AIFA. Per cui il numero reale di persone che stanno male è enormemente super. Quindi lei non lo farà, continuerà a farsi il tampone, assolutamente. Il pericolo di tampone della vaccina è il pericolo di me. Lei quanti anni ha? La sua età? 51. 51, quindi è una fascia che potrebbe già aver fatto da molto il vaccino, diciamo, praticamente. Quindi andrà avanti i 15 euro. Finché si può, sì. E poi farò il vaccino l'anno. Sarò costretto o lo farò? Solo se ci sarà l'obbligo. Invece. Non ci sono riprese. No, no, certo. Non neanche credo il mio amore. Lei perché continuerà a fare il tampone? Lei è un ingegnere cagliaritano. C'è il Super Green Pass dal 6 dicembre. Possibilità di fare il vaccino. Però lei continua col tampone, liberamente. Come mai la scelta? Non si fida del vaccino? Non mi fido del vaccino. Diciamo semplicemente così. Non mi fido del vaccino è di tutto quello che gli vuota a terra. Mi sembra che l'obiettivo sia vaccinare la gente, non combattere il Covid. Lei ovviamente una volta ogni 48 ore è obbligato a farlo per poter entrare in ufficio. No, no, io lavoro da solo. Mi controllo da solo. E quindi spende 15 euro ogni quanto per intendersi? Ogni due o tre settimane. Sempre negativo, sinora? Sì, sì. Mai nessun sospetto Covid? No, no, non ho contatti con gente. Non sto vedendo tanto più neanche gli amici. Quindi sto facendo una vita un pochettino... Le mancherà però il non poter andare al ristorante? No. Al cinema, al teatro? No. No. Perché sono quelli i tagli previsti dal governo. Non mi mancherà. Non le mancherà niente. Perché sono delle cose a cui si può rinunciare. Mentre non mi tiro del vaccino, penso che abbia anche effetti collaterali avversi che tengono abbastanza nascosti. E quindi preferisco evitare il Covid come ho fatto finora. Con i tamponi? No, non evito il Covid con i tamponi. Evito il Covid e mi faccio il tampone per vedere se sto facendo giusto. Se dovesse scoprire una sua positività a quel punto lei lo farebbe il vaccino? No. No, se divento positivo poi se supero la malattia per sei mesi ho un green pass grazie. In automatico. E non farebbe il vaccino, si accontenterebbe il green pass. No. Grazie.